Tanto saluto tutti per quanto riguarda il mio bollettino medico perché intanto si dice così sta procedendo tutto molto bene, un po' di alti e bassi però ci sta, ci sta nell'infortunio ci sta anche nel tipo di infortunio che mi sono procurata però dai cerchiamo di trovare sempre il positivo e quindi sto comunque sempre vicino alla squadra. Sicuramente la partita che andremo ad affrontare contro Chieri in questo caso sarà un bel banco di prova da questo punto di vista perché Chieri l'abbiamo visto soprattutto lo scorso anno e l'anno precedente è una squadra che è stata negli ultimi anni appunto un po' la rivelazione ecco perché ci sono comunque delle grandissime giocatrici molto giovani e come dicevo prima appunto sarà una bella partita magari sarà una partita in cui dovremmo cominciare ad affermarci un po' di più a tenere l'avversario appunto sotto anche nei momenti difficili e cercare di chiudere tutte le situazioni facili e anche difficili naturalmente. Una cosa bella è che entrambe le partite verranno disputate qui al palazzetto di Scandici quindi ancora una volta l'Italia e soprattutto la Savino si rende protagonista di tutto questo. speriamo che comunque possa essere anche lì un'altra prova per noi soprattutto a livello europeo in questo caso e cerchiamo di arrivarci nelle migliori condizioni possibili in questo caso perché essendo comunque due partite molto ravvicinate tra il campionato anche bisogna arrivare in una buona condizione fisica. L'infortunio mi ha costretta a stare un po' fuori da quelle che sono le dinamiche del gruppo e della squadra e questo mi dispiace perché mi manca, cerco comunque di essere sempre partecipe vedo che è un bel gruppo, c'è una sintonia tra giovani esperte anche se naturalmente è una squadra molto giovane la nostra e c'è molta voglia di fare, molta voglia di dimostrare, c'è desiderio di fare tutto questo e questa è una cosa che a me piace molto. Io spero dal canto mio intanto di, è normale, rientrare il prima possibile è una frase ormai standard, devo fare tutto secondo i tempi senza cercare magari anche di accelerare anche se io già dal campo si vede che sono molto istintiva ma questo tante volte non paga e quindi spero comunque di poter aiutare i miei compagni nel caso in cui ci dovesse essere bisogno in tutto, da un punto di vista mentale, di consiglio o anche di un semplice sguardo o di una semplice pacca sulla spalla, quindi io ci sono comunque sempre. Ciao a tutti, ci vediamo domenica.